Io guardo ancora all'avenire del popolo italiano con speranza, con fiducia. Riuscirà questo popolo nostro a rialzarci, riusciremo a rialzarci o italiane o italiane, perché io credo nel popolo italiano. È un popolo buono, generoso, laborioso. Non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra, chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo, ogni popolo civile, ogni popolo che ha raggiunto un certo progresso come l'ha raggiunto il popolo italiano. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta, delle modici piose cinta alla testa, dove le portano la chioma, che schiava di Roma, il Dio la creò. Pa, 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 pa. Che schiava di Roma, il Dio la creò. Stringiancia, coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiancia, coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, e l'Italia chiamò. Sì!